Buongiorno, buongiorno. Voi siete? Virginia Raffaele e Claudio Gregori. Ah, siete qui per il ruolo di Janne e Elisabeth. Sì. Cosa avete portato? Vi ho portato Il Tlaspi, che è un brano tratto dalle stoiche memorie di un caprimulgo di Hulda Frosniak. Ok, prego. Non conosco il testo, comunque prego. Dunque, spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Ma stia tranquillo che io non la mangio nessuno, eh, tranquillo. No, era iniziato. Cosa, il monologo? No, non è monologo, è un brano. Un brano questo è un brano. Ah, scusa. Cioè, lei mi sta dicendo che inizia con lei che dice spero di non imbrogliarmi. Ah, inizia proprio così. Mi scusi perché, ripeto, non conosco il testo, quindi mi scusi tanto. Prego, vado a capo. Sì. Dunque spero di non emozionarmi perché sono molto emozionato. Eh, già ho sbagliato. Dunque spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi e quindi... Quindi si vediamo di interrompere. No, adesso ho capito non interrompo più. Eh no. Eh no. Cioè, fa sempre parte del Tlaspi, del testo. Eh sì. Ripeto, guarda, mi dispiace, io non... No, perché voi siete molto naturali tra l'altro, per cui io... Però è difficile per noi. No, no, sì, però... Anche io, conoscendo il testo, sembra che mi parlate, per cui voi mi guardate pure. Per cui, vabbè, comunque non interrompo più, prego. Ok. Prego. Spero di non imbrogliarmi perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi... Quindi si evitiamo di interrompere. Lascia perdere, Virginia. Continuiamo per i fatti nostri. Come vuoi. Speriamo bene. Ma ci sta ascoltando? Come? Ci sta ascoltando... No. No, 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 dai, super. Però non... Così è drammato. Scusate, adesso, scusate. Adesso voi vi siete girati, ma avete fatto una domanda. Mettetele nei miei panni pure voi, però, non è... Per me non è facile. Ma siamo... Cioè, c'è la concentrazione di un pezzo. Ho capito, però... Se lei interrompe non è proprio... Ho capito, però mettetele nei miei panni, insomma. Ma lei si mette nei nostri, siamo tesi. Prego, non vi interrompo più. Prego. Dunque, spero di non imbrogliarmi, perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi... Quindi si vediamo di interrompere. Lascia perdere, Virginia. Continuiamo per i fatti nostri. Come vuoi. Speriamo bene. Ma ci sta ascoltando? Ma vabbè. Stiamo recitando per i cavoli nostri. Ehi, là! Un cenno! Dai, Virginia, ho detto, lasciamo perdere. Ma no, scusa, io non mi capacito. No, vabbè. Ma lei veramente prima pensava che non stessimo recitando? Eh sì! No! Porca puttana! Eh no! Allora... Mamma mia... Cioè... No, è difficile... Sapevo di... Cioè, mentre lo dicevo, già sapevo che stavo a fare una stronzata. Ma mentre lo dicevo, per cui... Non ho fatto il tempo a bloccarmi, scusate. Cioè, c'è la concentrazione... Cioè, c'è stato quell'attimo, avevo capito? Comunque, prego. Cioè, la concentrazione... Prego, prego, non mi interrompo più, prego. Andiamo fuori così. Dunque, spero di non imbrogliarmi, perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi... Quindi ci evitiamo di interrompere. Facciamo bene, Virginia, continuiamo per i fatti nostri. Come vuoi. Speriamo bene. Ma ci sta ascoltando? No, vabbè. Stiamo recitando per i cavoli nostri? Eila! Un cenno? Dai, Virginia, lasciamo perdere. No, io non mi capacito, scusa. No, ma lei veramente prima pensava non stessimo recitando? No, perché... Ma scusate. Un po' d'acqua. È frizzante questa? Sì, prego. No! No! Va bene. Ok. 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 Però scusate, voi fate dei riferimenti all'attualità proprio. Cioè, guarda caso, nel vostro testo si parla di acqua minerale, quasi dell'acqua minerale. Cioè, rendetevi conto pure voi. Perché è uno scrittore ebraico, finnico, e scrive in maniera quotidiana. Ma per me così diventa difficile. No, ma è difficile per noi, perché c'è la concentrazione, c'è non... Ok, ok, prego. Prego. Ragazzi, però... Dunque, spero di non imbrogliarmi, perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi... Quindi, se vediamo di interrompere... Non mi lascia vedere, Virginia. Continuiamo per i fatti nostri. Come vuoi. Speriamo bene. Ma ci sta ascoltando? Vabbè. Ma stiamo recitando per i cavoli nostri? Ehi là! Un cenno? Dai, Virginia, l'ho detto, lasciamo perdere. Ma no, ma scompa, io non mi capacito. No, vabbè, ma... Ma veramente lei prima pensava non stessimo recitando? No, per... Ma scusa, un po' d'acqua. È frizzante questa? Ecco, il traspi finisce qui. Se lei lo trova corto, possiamo anche continuare, perché abbiamo fatto una seconda parte. No, no, va bene, se no che lo trova corto. No! Dio santo! Io veramente sto impazzendo, scusate. Ok, basta, sto muto! Finite questo pezzo, prego. Io non... È proprio difficile riprenderlo adesso. Prego. Spero di non imbrogliarmi, perché sono molto emozionato. Non ho avuto tanto tempo per prepararmi, quindi... Quindi se vediamo di interrompere... Dai, Regina, lasciamo bene, continuiamo per i fatti nostri. Come vuoi. Speriamo bene. Ma ci sta ascoltando? Ma vabbè. Ma stiamo recitando per i cavoli nostri? Sì. Ehi là! Un cenno? Dai, Regina, lasciamo bene, l'ho detto. Ma... Ma no, ma... Ma io non mi capacito, scusa. No, ma davvero lei prima pensava non stessimo recitando? No? Scusate, un po' d'acqua. Frizzante questa? Ecco, il traspi finisce qui. Ora, se lei pensa che sia corto, noi possiamo aggiungere anche qualcosa. Se lei ci dà un feedback. Cioè, ci deve dire se va bene o non va bene. Noi abbiamo fatto una sezione in più. Però ci deve dare un consiglio. No, no, ma non hai capito? Lui pensa che... Che stiamo recitando. Sì, ancora pensa... No, ci deve dare un consiglio. Se vi piacciamo come attori... Oppure... Andiamo bene... No, ma lei ci deve rispondere veramente, però. Davvero? Non risponde più adesso. Non so cosa dobbiamo fare. Ci risponde per cortesia o no? Se lei ci dice cosa... Lillo risponde. No, stanno facendo il traspi. Ma il traspi è finito da prima. È finito. No! Ma vabbè, ammassare, guarda. Vabbè, vai, vai. Noi vi salutiamo. Speriamo che vi siate divertiti, naturalmente. Ci saranno tante altre puntate. Volevo dire che anche per noi è stato veramente un piacere partecipare a questo programma. Guarda, anche a me... No! Vabbè, la settimana prossima. Speriamo! Grazie.